Bene, oggi vediamo di svolgere qualche esercizio di riepilogo, e facciamo anche un po' di ripasso sull'incertezza delle misure in fisica. E iniziamo dagli esercizi che sono a fine capitolo, quindi quelli riassuntivi, in particolare l'esercizio 1, che chiede di indicare le cifre significative di diverse misure. Ok, quindi diciamo... Prego? Che pagina? La pagina è la 96. Dice con quali cifre significative sono indicate le misure seguenti. Cominciamo dalla prima. La misura A è 34,5 gradi centigradi. Qui a destra mettiamo il numero di cifre significative. Qui c'è la misura. E qui, come vedete, la cifra è riportata con un decimale. Ok, quindi sono 1, 2, 3 le cifre significative. Penso che sia abbastanza chiaro per tutti. Meno evidente invece è la B. Dove abbiamo 0, ci sono poi 3 zeri e 23 grammi. Qui i primi zeri, quelli più a sinistra, stanno solo a indicare il fatto che questo 2 indica i decimilesimi di grammo. Quindi qui le cifre che danno informazione sono queste due. Infatti se scrivessimo questo numero in notazione scientifica, scriveremo 2,3 per 10 alla meno 4 grammi. Quindi qui avremo due cifre significative. Quindi qui metteremo un 2. Ok. Poi c'è la misura C, che riporta 2005 metri. Ecco, qui abbiamo informazione sulle migliaia e sulle unità. Quindi tutte le cifre comprese sono significative. Non c'è danno informazione. Qui le cifre sono 4. Cifre significative. Tutte quelle che compongono il numero. D'accordo? Ditemi se vado troppo veloce o se c'è qualcosa che vi sfugge. Poi c'è la misura D. 29.960 kg al metro cubo. E questa è una densità. Qui in questo caso la cosa è un po' dubbia. Perché questo 0 potrebbe essere sia una cifra significativa, sia indicare il fatto che il 2 è relativo alle migliaia. Quindi qui, a seconda di quanto dei valori di questo 0, cioè se da informazione o no, sono o 3 o 4 le cifre significative. Io propenderei per il 4. Ok. Quindi, detto in altri termini, se fossero tutte e quattro significative e lo scrivessimo in notazione scientifica, dovremmo scrivere 2,960 per 10 alla 3 kg al metro cubo. In questo caso le cifre sono 4. Se invece non ho informazioni sull'incertezza, allora dovrei scrivere solo il 9,6 e avrei tre cifre significative. Questo però, con i dati che ci dà il testo, non lo sappiamo. Quindi qui direi o 3 o 4. Io propenderei per il 4, tenendo conto anche dello 0. Poi abbiamo la misura E, che vale 300.000 km al secondo, che è la velocità della luce. Qui la cifra significativa è una, solo questo 3. che sta a indicare le centinaia di migliaia di unità. Gli altri 0 sono solo dei segni a posto, probabilmente. Ok. Poi andiamo avanti. La misura F, che indica 0,5, più o meno 0,01 m. Qui la misura è molto più chiara, perché abbiamo a disposizione anche il valore dell'incertezza. E quindi tutte queste cifre, le prime tre sono certe, la quarta è incerta. Quindi cifre significative sono tutte quelle certe, più la prima incerta, quindi il totale è di 4. Abbiamo 4 cifre significative. Poi ho ancora la G, che è un volume 0,020 litri. Ho qui, questo 0, se l'hanno messo, vuol dire che hanno informazioni anche sullo 0. Quindi in realtà le cifre importanti, quindi le cifre che danno informazioni, sono le ultime due. Quindi se non avrebbero messo lo 0, quindi qui abbiamo due cifre significative. Quindi se dovessimo scrivere questo in notazione scientifica, scriveremmo 2,0 per 10 alla meno 2 litri. Perché l'ultimo 0, quello più a destra, è importante. Infine abbiamo la H, ancora due, ce ne sono, che è 4,53 per 10 alla 4 secondi. Qui abbiamo tre cifre significative. E infine l'ultima misura, la I, 0,12 più o meno 0,05 kg, questa è una massa. E qui abbiamo le due cifre significative, sono quelle dopo lo 0. Perché il primo 0 sta solo a indicare che l'1 rappresenta i decimi di kg. Quindi qui abbiamo due cifre significative. E questa era l'ultima misura, quindi qui si conclude l'esercizio. Ci sono domande? Se no passiamo all'esercizio 2. Tutto chiaro per tutti? Ok. Passiamo all'esercizio 2. Il quale dice, un cubetto di alluminio viene utilizzato per costruire un dado da incastro. Quindi facciamo, bisogna un piccolo cubo. Il grosso modo è questo. E dice, il lato del cubo, il lato L è questo. Lo misuriamo direttamente e otteniamo 3,05 con un'incertezza di 0,05 cm. La densità dell'alluminio, chiamiamola D, vale 2.960 più o meno 60 kg al metro cubo. Dice, calcolare il valore della massa del dado. Quindi, a quanto è la massa del nostro cubo di alluminio. Qual è l'incertezza della massa? E di esprimere il risultato. Quindi, con le cifre significative e corrette. Ok. Allora, se abbiamo la densità del materiale, dell'alluminio, e abbiamo il lato del cubo, per calcolare il valore della massa, dobbiamo moltiplicare la densità per il volume del cubo. Dato che la densità è massa diviso volume, la massa è densità per il volume. Dove il volume, però, è il lato alla terza potenza. Quindi, siccome il lato è incerto, avremo incertezza sul volume e, di conseguenza, avremo incertezza anche sulla massa, perché la massa è ottenuta da due dati incerti. La densità, che ha una sua incertezza, e il volume, che ha la sua incertezza. Allora, per prima cosa, occupiamoci del volume. Il volume è una potenza del lato. Abbiamo visto che, quando abbiamo a che fare con due gradezze fisiche, che sono una alla potenza dell'altra, allora l'incertezza relativa del volume, in questo caso, vale l'esponente, che è 3, per l'incertezza relativa del lato, dove v barato e v e l barato sono i valori della misura. Allora, qui, i valori di delta l e di l barato li otteniamo dal testo stesso, perché l'incertezza è delta l 0,05 cm, mentre la lettura, cioè il valore della misura, è 3,05 cm. Quindi, sostituendo, abbiamo la misura dell'incertezza relativa del volume. Quindi, sarà 3 volte 0,05 cm fratto 3,05 cm. I 2 cm, essendo numeratore e denominatore, si semplificano. L'incertezza relativa è un un numero puro, senza unità di misura, per cui possiamo calcolare, scusate, sono un secondo che prende, la pericolazione, coposta vale 0,05 diviso 3,05, questo rapporto mi da 0,01,6, 3,09,3, eccetera, moltiplicandolo per 3, ottengo l'incertezza sul volume, che è 0,049,18, eccetera, eccetera. Ok? Questa è l'incertezza sul volume. Dato questo, possiamo ottenere l'incertezza sulla massa. Abbiamo visto che la massa è densità per volume, quindi ha il prodotto di due grandessze fisiche diverse. In questo caso, abbiamo visto che quando ho due grandessze fisiche, una moltiplicata per l'altra, entrambe incerte, l'incertezza relativa del prodotto vale la somma dell'incertezza relativa. Prego? Va bene anche se io ho semplificato il 0,049,18 a 0,05. Questo è un punto importante, attenzione, siccome questo è un dato intermedio, torniamo un attimo su, ho fatto bene a chiedermelo, questo è un valore intermedio, non è il nostro risultato, allora qui non conviene approssimare, io qui ho messo i puntini proprio perché l'approssimazione è bene non farla, approssimeremo il dato finale, il risultato finale, non quelli intermedi, perché più spesso io approssimo i dati intermedi, più errore commetto alla fine. Ok? È chiaro che la calcolatrice mi darà un numero di cifre limitato, d'accordo? Ma, e qui posso anche fermarmi allo, che ne so, alla quarta, quinta decimale, però quando faccio il calcolo finale, è bene tenere tutte le cifre significative, tutte le cifre che la calcolatrice è in grado di darmi. Tra ogni attimo vediamo come. quindi la risposta è meno approssimi meglio è. Ok? E almeno nei dati intermedi. Quindi torniamo alla massa, calcoliamo la massa come densità per volume, quindi l'incertezza relativa della massa è la somma delle incertezze relative sulla densità più quella sul volume, quindi delta v fratto v segnato. Ok? Quindi possiamo sostituire direttamente il delta v o v segnato che abbiamo appena calcolato, quindi delta d su d segnato più 3 volte delta l su l, dato che questo è proprio l'incertezza del volume. Ok? Quindi possiamo andare a calcolare adesso l'incertezza relativa sulla massa, in realtà è quella che ci interessa perché è quello che ci chiedono. Allora, l'incertezza assoluta sulla densità torniamo è 60 chilogrammi al metro cubo. Il valore di lettura della densità è 2960 qui potevo anche non mettere un'età di misura perché comunque si semplificano più 3 volte il l'incertezza 0,05 centimetri fratto 3,05 centimetri anche in questo caso ripeto le valore di misura le posso togliere quindi ecco qui facciamo fare il lavoro alla calcolatrice e facciamo questo calcolo 60 diviso 2960 più 3 per 0,05 diviso 3,05 otteniamo un totale di 0,606 945 ok questa è per l'incertezza relativa a noi serve l'incertezza assoluta quindi per avere l'incertezza della massa delta M moltiplichiamo il valore della massa per quanto abbiamo appena ottenuto delta M su M segnata cioè questo numero qui questo lo mettiamo al posto di questa parentesi e quindi il valore della massa qual è? beh qui al posto della massa possiamo scrivere la densità per L alla terza cioè nel nostro caso avremo 2960 chilogrammi al metro cubo per il lato che era 3,05 attenzione centimetri abbiamo trasformato in metri quindi per 10 almeno 2 metri tutto alla terza ancora moltiplicato per l'incertezza relativa appena calcolata delta M su M e otteniamo qui possiamo anche se non vogliamo mettere la potenza di 10 questo possiamo scriverlo come 0,0 3,05 metri e poi fare la terza abbiamo 2960 per punto 0,3 0,5 alla terza e questo tutta questa parte mi da 0,0839 8 dicendo chilogrammi per il valore che avevamo ottenuto prima che era circa 0,06 ecco 0,06 le altre cifre non le segno ma vanno contate e abbiamo un risultato che possiamo indicare con 0,00 5 8 3 chilogrammi anche qui teniamo la cifra più a sinistra diversa da 0 quindi questo lo approssimiamo con 0,006 chilogrammi ok quindi questa è l'incertezza della nostra massa per cui il valore della massa che avevamo ottenuto prima cioè questo 0,08 eccetera eccetera lo dovremo esprimere fino alla terza decimale qui avremo quindi 0,084 perché buttiamo via il 9 non fermarsi la terza decimale più o meno 0,006 chilogrammi per scrivere per scrivere tutto in notazione scientifica quindi il primo numero deve essere compreso ad avere un coefficiente tra 1 e 10 avremo 8,4 più o meno 0,6 per 10 alla meno 2 chilogrammi questo è il valore della nostra massa quindi rispondendo alle domande che pone l'esercizio questo rispondeva alla terza domanda esprimi la massa nel modo opportuno qui mettiamo M l'incertezza sulla massa che era un'altra domanda la seconda mi pare è 0,006 chilogrammi e la massa a questo punto tenuto conto di quanto percolato relativamente all'incertezza è di 0,084 chilogrammi ok quindi come ho già ripetuto prima attenzione alle approssimazioni non è saggio non è opportuno approssimare i calcoli intermedi il valore dell'incertezza relativa che non è l'obiettivo finale è meglio tenerselo con quante più cifre dalla calcolatrice possibile perché così evito di fare arrotondamente o troncamente in corso d'opera l'unico punto in cui devo approssimare è questo perché questo è il valore della massa una volta che so l'incertezza so quale cifra devo buttare via l'incertezza cade sulla terza decimale quindi sul buttiamo via il 9 mi tengo il 3 il 3 diventa 4 quindi tengo tre cifre dopo la virgola che se avesse approssimato prima avrei probabilmente ottenuto un dato più o meno leggermente diverso a seconda delle approssimazioni ok questi anche fanno parte dei risultati ok il libro propone questo scusate un secondo propone questo tipo di risposta m come 84 più o meno 6 per 10 alla meno 3 chilogrammi ma non ne vedo il motivo del momento che la scrittura scientifica è questo il coefficiente tra 1 e 10 e la potenza dei 10 opportuno ci sono domande qui la difficoltà dell'esercizio stava nell'applicare correttamente le leggi sulla propagazione delle incertezze dovute alla potenza torniamo un attimo a vederla eccola qui il volume la potenza del lato scusate non volevo scarabocchiare quindi questa legge è importante e questo il fatto che il volume la potenza del lato quindi l'incertezza relativa sul volume è il triplo di quella sul lato e la massa essendo un prodotto densità per volume l'incertezza relativa della massa è la somma delle incertezze relative dei fattori e poi usare l'accorgimento che è bene approssimare sì ma solo alla fine ci sono domande? se non c'è domande passiamo all'esercizio 3 ecco il quale dice durante un rilievo topografico la misura del lato maggiore di un apprezzamento di terra rettangolare ha fornito il valore di 90,0 più o meno 0,3 metri il fossato che corre lungo due lati consecutivi del lotto di terreno è lungo 150,2 più o meno 0,5 metri calcola il valore più plausibile per la lunghezza del lato minore e l'incertezza corrispondente calcola l'area dell'apprezzamento di terreno calcola l'incertezza percentuale dell'area quindi ok abbiamo un terreno rettangolare fatemi disegnare qui ok qui il lato maggiore che l quindi è questo dato e poi l'altro lato chiamiamolo che ne so b è tale che la somma s che è l più b cioè attorno a l a b c'è il fossato vale 150 più virgola usato virgola 0 2 virgola 2 più o meno 0 5 metri quindi abbiamo informazione su qui un disegno in blu qui c'è il fossato che copre i due due lati quindi i semiperimetro se volete e mi chiedono informazioni su quanto vale il lato minore quindi b con la sua incertezza poi l'area e l'errore percentuale sull'area ma qui se ho informazioni su s che se s vale l più b allora è chiaro che per avere b devo togliere da s i valori del lato l quindi devo calcolare b come misura indiretta lo tengo mediante calcoli dove invece s ed l sono misure dirette misure ottenute durante l'elevamento topografico quando devo fare la differenza tra due misure quindi l'incertezza assoluta sulla differenza in questo caso il delta b abbiamo visto che è la somma delle incertezze delle due misure considerate quindi delta s più delta l allora il delta s l'incertezza sul perimetro vale 0,5 metri è questa qui sopra delta l è 0,3 metri secondo quanto ci dicono nel testo quindi l'incertezza sul lato piccolo del nostro appezzamento rettangolare sarà 0,5 più 0,3 quindi 0,8 metri quindi avremo incertezza sui decimi di metro il valore b della lettura della nostra misura sarà il valore della lettura di s meno quello di l quindi sarà 150,2 metri meno 90 quant'era 0,8 metri e questo ci da 59,4 metri ok di conseguenza b lunghezza del lato piccolo la scriviamo con 59,4 più o meno 0,8 mentre qui abbiamo già le cifre giuste perché l'incertezza si l'abbiamo sui decimi di metro e qui abbiamo già la scrittura corretta perché arriva fino ai decimi di metro che sono quello 0,4 quindi questo è un primo risultato d'accordo poi ci chiede di calcolare l'area domanda b la richiamiamola con la a del del nostro appezzamento di terreno essendo un rettangolo fatemelo ridisegnare questo è il lato l questo è il lato b l'area la ottengo moltiplicando l per b lato lungo per lato corto ma sia il lato lungo che il lato corto sono incerti quindi devo calcolare anche l'incertezza sull'area qui essendo il prodotto di due grandezze l'incertezza sull'area ha un valore relativo dato dalla somma dell'incertezza relativa del lato più l'incertezza relativa dell'altro dell'altro lato scusate questo è il b che abbiamo appena calcolato quindi avremo il delta l su l che vale 0,3 metri su 90,8 più 0,8 diviso 59,4 anche qui tutte le unità di misura si semplificano e abbiamo un valore che è dato da 0,01677 questo è anche quello che ci chiedono nella domanda 3 ok la domanda 3 vuole l'incertezza relativa sull'area in percentuale quindi è sufficiente prendere quella appena calcolata delta su a e moltiplicarla per 100 e abbiamo la percentuale quindi qui abbiamo circa 1,68% tenendo due decimali ci manca ancora di esprimere l'area nel modo corretto quindi avremo per calcolare l'area il valore dell'area sarà la lettura dell'atto corto per la lettura dell'atto piccolo quindi avremo 90,8 metri per cos'era 59,4 ancora metri quindi avremo un totale di fatemi calcolare 90,8 x 59,4 e viene 5,393,52 metri quadri ok qui poi per decidere come riportare questo dato dovremo sapere qual è la sua incertezza perché quello ci dirà quante cifre mettere quindi andiamo a calcolarci il delta A l'incertezza assoluta sull'area che vale il valore dell'incertezza relativa per il valore della misura che abbiamo appena trovato quindi qui avevamo 0,01677 per 5,393,52 metri quadri attenzione l'incertezza assoluta sull'area ha l'unità di misura quella relativa non le ha ma quella assoluta sì e questo mi dà un totale di il calcolo 0,01677 quindi 90,45 circa metri quadri al solito otteniamo la cifra diversa da 0 più a sinistra quindi questo lo approssimiamo con 90 metri quadri quindi il valore della dell'area fatemelo ricopiare che è 5,393,52 metri quadri l'incertezza qui cade sulle decine di metri quindi dovremmo buttare via tutte queste cifre per cui buttando via un 3 il 9 rimane 9 quindi la nostra area A avrà un valore di 5,390 metri quadri più o meno 90 metri quadri quindi se vogliamo scrivere notazione scientifica che è meglio sarà 5,39 più o meno 0,09 per 10 alla 2 alla 3 scusate anzi metri quadri questo è il modo corretto di riportare l'area tenendo conto del suo valore ma anche della sua incertezza ok anche qui abbiamo usato essenzialmente due leggi di propagazione degli errori la prima legge che abbiamo usato è quella relativa alla differenza di due grandezze fisiche eccola qua quando ho due grandezze fisiche una sottratta all'altra l'incertezza della differenza è la somma delle incertezze dopodiché abbiamo usato la legge sul prodotto visto che l'area è il prodotto delle due grandezze fisiche coinvolte e anche in questo caso la legge dice che l'incertezza relativa del prodotto è la somma delle incertezze relative dei fattori calcolata poi l'incertezza relativa possiamo moltiplicarla per 100 per avere incertezza percentuale quindi la nostra area è nota con incertezza di circa l'1 68 per cento o 1,7 se preferita o volendo approssimare ancora più drasticamente del 2 circa il 2 per cento ok e quindi una volta calcolato questo dato questo ci è utile perché perché in questo modo riusciamo a calcolare l'incertezza assoluta qui metto tra parentesi la delta A su A perché in realtà questo rappresenta un unico numero che è appunto quello che abbiamo appena calcolato se conosco il rapporto tra l'incertezza assoluta e il valore dell'area moltiplicandolo per l'area ottengo l'incertezza assoluta dell'area che viene circa 90 metri quadri l'informazione su questa incertezza mi dice come scrivere l'area perché mi dice guarda che la tua area ha un'incertezza che cade sulle decine di metri quindi sulla cifra delle decine che in questo caso era un 9 quindi butto via il 3 siccome butto via un numero più piccolo di 5 il 9 rimane 9 se qui al posto di 3 ci fosse stato 5 più grande di 5 questo 9 diventava 10 quindi qui avrei avuto 5 4 0 invece che 5 3 9 ok dopodiché scritta l'area in modo opportuno trasformiamo in notazione scientifica che è sempre bene farlo quindi il coefficiente iniziale è un numero tra 1 e 10 più o meno l'incertezza riportata nella stessa scala per la potenza di 10 opportuna ok ci sono domande fin qui bene direi che per fare l'altro esercizio ahimè è un po' tardi lo facciamo una volta prossima ma per oggi mi fermo qui 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 per oggi mi fermo qui